Ah! 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 Astra ha ricevuto il mio segnale. Poi... ...nulla. Ah! 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 No. Vali da ombra. Tu eri la mia fuga. Ah! 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 Oh! Ah! Oh! Ah! Ah! Oh, no, non posso essere qui. Ero scappata, ero... Elios, ci sei anche tu. Astra! Qualcuno mi sente? Qui Selene. Siamo in trappolo. In fondo. Oh, il ciclo continua. Non l'ho interrotto. Era... Era vero, ma il mio ritorno sulla Terra non ha cambiato nulla. Ah, ah! Devo... riuscire... ad uscirne. Sessantatré anni... e sono tornata qui. Ma è passato molto più tempo. Elios, ora quanti anni avresti? Sì. 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 Elios. Sono sempre... stata qui. Sono parte di... No. Non, non. Non sono io. Non, non. Ma... è la canzone che ascoltavo sempre. Non avrei dovuto ignorare questo posto molti anni fa. Non avrei dovuto mollare tutti per venire qui. Cos'è cambiato? Sedevo al pianoforte e per la prima volta ho capito. La musica mi chiama. Come posso impedirlo? Non voglio diventare come quella donna che parla a vanvera con la mia voce. Ora andiamo. Il corso del cavi adaptations... Ma tempale. Se sta migliorando del piloto sempre ugrabi. I due dovuto Le bugio delle parla iniziate l'esplosione, Oh, no. 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 Oh, no.